Un grazie a Sperlonga perché mi ha accolto con affetto, ho avuto tutte le possibilità per girare questa scena che è molto importante che apre il film, io cercavo di fare la mia parte, ho cercavo di fare delle belle inquadrature, poi anche con un drone dall'alto in modo che si vede bene il golfo, la cittadina e quindi questa zona che è bellissima, che devo dire che ho riscoperto venendo a fare qua il sopralluogo, merita. Un saluto a tutti, un bacio a presto.